Prova, 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 prova. Grazie. 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 Amici, all'ascolto e alla visione, un cordiale buon pomeriggio dallo stadio Germano Bellucci in Agliana. Tutto in 90 minuti, Aglianese contro Prato, l'Aglianese per continuare a sognare la Serie C, il Prato per rimanere aggrappato invece alla possibilità di giocare i playoff, insomma una sfida nel quale il pareggio non serve a nessuno. Accanto a me per il commento tecnico Andrea Labate, ciao. Ciao Massimiliano, buonasera a tutti, è la partita dell'anno, inutile nasconderci la partita che decide una stagione per l'Aglianese davvero, davanti a portata di mano c'è la Serie C ma ci sono 180 minuti ad altissima intensità, cominciare ovviamente dal superderby con il Prato. È cominciata adesso e allora andiamo subito a sciorinare le formazioni delle squadre con l'Aglianese subito in avanti, attenzione perché qui si comincia a mille all'ora con il cross di Giuseppe Giannini e allora andiamo a leggere le formazioni delle squadre in maglia l'Azzurra, tanto attenzione subito all'Aglianese che segna, segna il vantaggio dell'Aglianese ma è fuori gioco, è fuori gioco, Russo dopo appena 25 secondi aveva segnato per la formazione neroverde ma è fuori gioco e quindi non c'è il tempo nemmeno di leggere le formazioni l'Aglianese già era passata in vantaggio con Russo, gol annullato dopo 25 secondi ma che partita è? Mamma mia, se il buongiorno si vede dal mattino Massimiliano ci sarà da divertirsi quest'oggi ci faranno leggere le formazioni, io ci riprovo perché adesso va Spinosa invece per il Prato avanza Spinosa, il tocco è per Tavano la conclusione, la palla alta sopra la traversa da una parte e dall'altra, allora le formazioni, il Prato con Piretro, Quassicca Lamai, Spinosa, Tavano, Cecchi, Carli, Shandamè, Fremura, Uattara e Tognarelli replica l'Aglianese che presenta Carcani, Giannini, Righetti, Panelli, Colombini, Coda, Ballardini, Remedi, Brega, Russo e Bianchi i due allenatori per quanto riguarda la formazione del Prato, Aldo Ferricano ha in panchina, il secondo portiere Nannelli, Mastino, Cellini, Sanat, Napoli, Masini, Casati, Minardi e Falchini l'Aglianese invece l'allenatore ovviamente è Matteo Capecchia, il secondo portiere Ansaldi, Casanova, Gelli, Gasco, Soldani, Bangu, Bellazzini, Petrucci e Giordani quindi le composizioni delle due squadre con un'assenza importante nelle file del Prato, manca il capitano Giovanni Tomi assente, non è nemmeno in panchina per un problema fisico Andella Abate, le scelte dei due allenatori? le scelte dei due allenatori sono abbastanza direi quelle attese da parte di Capecchi con il balottaggio russo Giordani vinto dal russo come spesso è accaduto nelle ultime settimane secondo un 3-5-2 abbastanza ormai rodato dalla formazione nero-verde intanto attenzione ti interrompo perché adesso c'è Cristian Brega, Brega limite dell'aria, ancora Brega prova il suggerimento con la palla che finisce sul fondo Andrea Abate dicevamo appunto il 3-5-2 dell'Aglianese con la difesa impernata su coda con Colombini e Panelli ai suoi fianchi Righetti e Giannini sono gli esterni bianchi davanti alla difesa, Remedie e Balledini incursori con Brega e Russo di punta difesa 4 invece per il Prato con Cecchi a destra e Fremura a sinistra la coppia centrale è formata da Tognarelli e Shannamè vista l'assenza di Giampa per squalifica con un centrocampo che si basa sulle geometrie di Spinosa ai suoi lati Calamai e dall'altra parte invece Carli con Tavano o Tarà di punta con quasi nel ruolo di trequartista in queste prime battute del match interviene Colombini ricaccia la palla in avanti poi ancora l'Aglianese con Erika Medeo Ballardini il 1-2 con Remedi Russo attenzione a Russo che prova a passare al limite dell'area c'è il recupero da parte di Thomas qua sì che poi finisce anche lungo e disteso Filippo Carli per il Prato quindi ancora la formazione bianco-azzurra ma il gioco viene fermato con Fremura che mette la palla in fallo laterale infortunio per Thomas qua sì fuori gioco sì fuori gioco no per quanto riguarda la rete realizzata da Russo invalidata dal segnalino e l'abbate siamo curiosi di rivederle le immagini perché tutto si è svolto davvero con una gran velocità dopo pochi secondi di gioco sarebbe stato davvero un inizio clamoroso per la formazione nero-verde oggi in completo un grigio con banda nero-verde sul petto siamo davvero curiosi di rivedere poi il replay interviene Panelli su Adamachi Wattara l'arbitro ritiene di non intervenire il direttore di gara il signor Davide Giacometti della sezione di Gubbio coadiuvato da Luca Cavaroli di Pescara e Matteo Manni di Savona ancora l'aglianese con Giuseppe Giannini che tra l'altro è il grande ex del match è cresciuto nelle giovanili la formazione bianco-azzurra proprio Giuseppe Giannini ha giocato anche in prima squadra con il Prato dall'altra parte Samuele Righetti l'ex primavera del Perugia il 2001 dei giocatori sicuramente più talentuosi nelle file della formazione allenata da Matteo Capecchi Matteo Bachecchi che ha saputo risollevare l'aglianese intanto attenzione ancora Giannini va l'uno contro l'uno con Fremurè il cross di Giannini troppo profondo non ci può arrivare Righetti ma l'attacco è ancora vivo con la maglia numero 11 è Filippo Bianchi il cross di Bianchi Tognarelli mette la palla in fallo laterale direi che ha cominciato discretamente l'aglianese Massimiliano mettendosi e stabilizzandosi subito nella metà campo del Prato l'aglianese vuole questi tre punti vuole la vittoria vuole la Serie C la formazione allenata da Capecchi è a un passo da questo obiettivo anche se il Fiorenzuola non molla e ovviamente avremo anche live tutti i risultati che arrivano dagli altri campi sia per quanto riguarda la lotta per il vertice sia per quanto riguarda la lotta playoff perché il Prato si è buttato via perdendo in casa domenica scorsa contro il Forlì e sperperando il vantaggio che aveva appunto nella lotta conclusiva per l'ultimo posto playoff che ancora è diciamo a disposizione di tre squadre il Prato il Forlì e la Pro Livorno più avvantaggiato invece il Rimini che ha tre punti di vantaggio su questo terzetto intanto attenzione alla formazione bianazzura c'è Tavano che viene innescato c'è Coda che protegge l'uscita del portiere Niccolò Carcani ormai preferito stabilmente a Filippo Ansaldi quanti campionati di Serie A e di Serie B con Tavano e Coda in campo? Tanta roba davvero non sembra Serie D non sembra Serie D che due grandi giocatori che veramente stanno interpretando al meglio il gioco del calcio intanto attenzione a Russo interviene Shannamè l'ultimo tocco è di Russo la rimessa è per il Prato Russo sicuramente uno dei giocatori che hanno fatto la differenza Anziano Abate in questo finale di stagione per l'Aglianese aveva già fatto gol dopo venticinque secondi Sì no no è un giocatore che obiettivamente è molto caldo e un giocatore bravissimo nell'uno conto uno e spesso e volentieri è stato lui a togliere le castagne dal fuoco all'Aglianese proprio perché riesce a saltare l'uomo e creare la superiorità numerica A centrocampo intanto c'è il fallo subito da Bianchi quindi il calcio di punizione è in favore della formazione di grigio vestita quest'oggi l'Aglianese con l'inserto nero verde va a coda ad allargare bene per Righetti interviene con buona scelta di tempo Tommaso Cecchi classe 2000 preferito a Mastino e a Masini nel ruolo di esterno destro è un prodotto delle giovanili del Prato intanto recupera ancora la formazione bianco-azzurra con Thomas Quassi poi c'è l'intervento di Panelli il fallo su Tavano e quindi il calcio di punizione che è in favore questa volta della formazione bianco-azzurra del Prato c'è già un risultato che è cambiato nella serie di girone di quest'oggi in questo ultimo turno in fase settimanale del campionato e penultimo turno appunto della stagione regolare con il vantaggio della Correggese sul Real Forte per 1-0 con il gol di Muro anche se è una partita che non dice molto a livello di play-off o salvezza intanto riparte Giacomo Piretro va a servire Marco Spinosa uno dei giocatori sicuramente che hanno avuto il rendimento più alto nelle file del Prato il tocco è per Thomas Quassi attenzione a campo Quassi limite dell'area salta coda ancora Quassi la palla è per Tavano e la palla in rete il Prato in vantaggio con Ciccio Tavano esattamente al minuto 7 nel corso del primo tempo il Prato è in vantaggio con la rete di Tavano il suggerimento di Quassi è la rete di Tavano perché poi alla fine Andella Abate sembrano sempre gli stessi sempre gli stessi sulla sua mattonella davvero non ha potuto sbagliare porta spalancata difesa dell'Aglianese inguardabile nell'occasione che si è fatta bucare centralmente nessuno a coprire su Quassi è dovuto uscire coda coda che è stato saltato netto da Quassi che ha potuto mettere un pallone d'oro per Tavano difesa dell'Aglianese non pervenuta errore quindi per quanto riguarda la formazione neroverde è come strano il calcio sembrava che l'Aglianese potesse fare un sol boccone del Prato nei primi minuti invece adesso dopo 7 minuti il risultato cambia qua al Germano Bellucci con il Prato avanti per 1 a 0 il gol è di Ciccio Tavano sempre lui giocatore che insomma nonostante passino gli anni quando vede la porta è veramente un giocatore che difficilmente sbaglia il suo tocco non ha lasciato scampo a Carcani e adesso l'Aglianese deve assolutamente cercare di rientrare in partita ma attenzione Acquassi recupera coda in precedenza saltato nettamente da Tavano attenzione a Brega esce Piretro Brega il tiro il pareggio dell'Aglianese ancora lui ancora Cristian Brega ma che partita è qua Germano Bellucci? 9 minuti chiama Tavano risponde Brega è 1 a 1 e segnano sempre i soliti e che gol di Brega che riesce a saltare Piretro e da posizione angolatissima in spaccata trova la porta un gol davvero di rara difficoltà il pareggio dell'Aglianese con Cristian Brega signori ci stiamo divertendo lo sapevamo che era una partita strepitosa la partita dell'anno e lo sta dimostrando perché il Prato ha bussato con Ciccio Tavano l'Aglianese ha risposto con Cristian Brega non a caso hanno segnato i due capitani i due giocatori che quando vedono la porta difficilmente sbagliano qual'errore in uscita di Giacomo Piretro che è stato beffato dalla palla che è filtrata e Brega come un felino si è allungato e ha trovato il Pertugio vincente è 1 a 1 può succedere di tutto qua Germano Bellucci andiamo a bate attenzione Acquassi adesso ancora in posizione di tre quarti dove l'Aglianese sembra soffrire un po' la posizione del giocatore del Prato eh sì la giocata da parte di coda che la rimette in avanti e poi il colpo di testa di Alan Fremura che quest'oggi sostituisce l'indisponibile Giovanni Tomi Alan Fremura classe 2001 giocatore prelevato dal Prato nel mercato di riparazione dal Livorno questo è Colombini che invece si predispone per la rimessa avranno il suo da fare mi immagino sarà una lotta bellissima anche a livello fisico con Uattara intanto ancora Brega Brega tra l'altro al secondo gol consecutivo decisivo anche a Budrio con il Mezzolara i gol pesanti li segna sempre Cristian Brega e intanto attenzione adesso alla formazione Nero Verde con Righetti che la va a mettere sul secondo palo attenzione a Russo prova la battuta Russo Brega non ci arriva altra occasione griffata dalla formazione Nero Verde il colpo di testa di Righetti e c'è il calcio di punizione fischiato all'Aglianese il fallo è di Righetti su cecchi e quindi calcio di punizione in favore della formazione bianco-azzurra con il ritmo che è davvero alto fa un grande caldo qua al Germano Belluno il sole ma c'è una cappa davvero incredibile per quanto riguarda l'umidità e allora diamo uno sguardo al cronometro undici minuti ci stiamo divertendo sembra ne siamo passati cento assolutamente assolutamente che bello il campionato di Serie D che bello questo derby tra l'Aglianese e il Prato con l'Aglianese che continua a collare un sogno e il Prato invece che continua a cercare di raggiungere più per l'orgoglio che peraltro i playoff la rimessa è per l'Aglianese l'errore di Alan Fremura che avrà il suo da fare su quella fascia a contenere le incursioni di un Giuseppe Giannini che veramente sta giocando con intensità sarà più ala che centrocampista o esterno di difesa oggi sicuramente vedremo Giannini in costante proiezione offensiva intanto attenzione al cross di Remedi Russo limite dell'aria un rimpallo ancora palla buona con l'intervento di Fremura la rimessa è per il Prato l'ultimo tocco è di Cristian Brega però sugli esterni il Prato sta patendo tanto sì sicuramente ma c'è una superiorità numerica da parte della dell'Aglianese in questo momento perché vengono spesso raddoppiati i giocatori portati sulle due fasce con i centrocampisti Remedi da una parte Ballardini dall'altra che vanno ad aiutare in costante movimento i due esterni caccio di punizione il fallo subito intanto da Wattara e quindi il caccio di punizione è in favore del Prato con Spinosa che parlotta con Remedi i due hanno da dirsi qualcosa c'è molto agonismo in campo la posta è altissima e quindi sicuramente non mancheranno le emozioni non mancheranno le scaramucce questa è una partita che dovremo vivere minuto dopo minuto perché è il super derby quello tra l'Aglianese e il Prato che state seguendo sulla pagina Facebook della formazione Nero Verde e sul canale YouTube e ovviamente poi il lunedì prossimo su TV Prato nel corso della trasmissione del gioco è fatto avremo la possibilità di rivedere tutto gli highlights e quant'altro intanto attenzione a Brega il fallo di Brega attenzione ha munito Brega ha munito Brega per questo fallo su Tognarelli ha mosso in maniera impropria il braccio una smanata da parte di Brega colpito Tognarelli non è convinto Cristian Brega Tognarelli l'ha presa che ne pensa la base è che il movimento di Brega probabilmente non volontario nel voler colpire l'avversario ma c'è stato Cartellino Giallo probabilmente anche per cercare di calmare un po' gli animi che in questi primi tredici minuti di gioco sono abbastanza gasati da una parte e dall'altra animi accesi c'è grande tensione ovviamente c'è grande rivalità perché l'Aglianese è lassù dove doveva essere il Prato invece è laggiù dove non doveva essere secondo gli obiettivi della vigilia avrebbe diciamo si accettano scommesse su chi avrebbe scommesso a inizio campionato a due giornate dalla fine 22 punti di vantaggio dell'Aglianese sul Prato avrebbero perso in tanti questa scommessa anche il sottoscritto lo ammetto sicuramente pure io Giannini la palla adesso è per Colombini ancora in avanti l'inserimento da parte di Tavano che sta lottando molto vuole assolutamente lasciare il segno Ciccio Tavano in questa gara l'ha già fatto perché poi Tavano al settimo minuto aveva portato in vantaggio il Prato al nono il pareggio dell'Aglianese con Cristian Brega Remedi che nel match con il Lentigione ha giocato una partita semplicemente straordinaria qua danza con il pallone lo attaccano in due passa Remedi poi il tocco è per Elika Medeo Ballardini che salta l'avversario il tocco è per Russo ancora l'Aglianese che la fa girare più in linee esterne con Righetti gioca bene la formazione allenata da Matteo Capecchi il tocco è ancora per Remedi attenzione Remedi può caricare il sinistro no? preferisce andare ancora a cercare Righetti che ha un controllo sbagliato poi il fallo è di Panelli su Guattara qua ci poteva stare anche l'ammunizione perché si è disinteressato del pallone è andato dritto dritto sull'uomo l'arbitro però che aveva ammunito pochi minuti prima non se l'è sentita per estrarre il cartellino giallo e allora è soltanto calcio di punizione per il Prato i minuti sono 15 il risultato come vedete dalla nostra grafica è 1-1 qua al Germano Bellucci di Agliari partita davvero che è cominciata a fulmicotone Massimiliano avevamo detto nel prepartita che ci attendevamo un inizio di match a mille all'ora da parte della formazione di casa ma il Prato sta rispondendo per le rime la palla che viene recuperata adesso da coda che esce bene l'ex giocatore dell'Udinese il suggerimento in avanti è sporcato e allora interviene Cecchi poi per un attimo Spinosa perde la palla Spinosa è una palla velenosa la palla è ancora per Cristian Brega adesso Ballardini li mette dell'aria poi non riesce a trovare lo spazio per il tiro d'attacco è ancora vivo con Giuseppe Giannini uno contro uno la palla è per Remedi calcia male Remedi mette fuori Spinosa ancora Giannini di prima intenzione recupera per la formazione del Prato Filippo Carli poi la rimette dentro con una buona giocata Colombini ma c'è fuorigioco di Russo Russo che gioca andrà la bate proprio sul filo del fuorigioco vuole sfruttare questa opportunità sì assolutamente è una delle sue armi del resto lo sa fare molto molto bene finora per due volte al Prato è andata bene la palla adesso è per Matteo Calamai attenzione prova ad avanzare Calamai che poi va ad allargare bene all'indirizzo di Alan Fremura ancora in avanti per Quassi Quassi che poi Caracolla sul pallone va a effettuare questo suggerimento largo a cercare Tavano che l'arpiona come può l'arpiona bene ma poi crossa male anche Tavano sbaglia questa è una notizia la bate ebbè insomma non era una palla facile questa non è la posizione preferita quella di Tavano quella di giocare così lontano dalla porta come si è ritrovato in questa azione palla che non era per nulla facile veniva giù davvero dalla stratosfera la palla adesso è per Bianchi poi ancora la giocata da parte di Coda che va a lanciare in avanti suggerisce per Righetti il tocco in avanti per Brega chiude bene Tognarelli l'ex giocatore del Real Forte Querceta al rientro dopo il turno di squalifica la palla poi gestita sempre dal Prato con Fremura non ha fretta la formazione di Aldo Filicano vuole assolutamente far scendere il ritmo cercare di mantenere il controllo del pallone il risultato è di uno a uno qua Germano Bellucci attenzione a questa palla per Sean Namelle l'ex giocatore della Cireale tocca per Alan Fremura che poi suggerisce in avanti per Matteo Calamai c'è l'intervento di Coda che interviene su Calamai c'è il calcio di punizione in favore del Prato che a centrocampo con Calamai con Quassi sta trovando delle buone geometrie sì in questi ultimi minuti il palleggio del Prato sta mettendo un po' in difficoltà i giocatori neroverdi che pure teoricamente lì dovrebbero essere qualcuno di più rispetto a quelli del Prato ma in questo momento il palleggio del Prato ha un buon effetto sulla partita suggerimento in avanti a cercare Quassi non riesce a intervenire il giocatore del Prato e quindi la palla termina direttamente sul fondo con il portiere Niccolò Carcani la passata stagione in forza alla formazione under 18 della Fiorentina dopo tutta la trafila per quanto riguarda il settore giovanile della Cattolica Virtus gli aggiornamenti dagli altri campi con Andrea Labbate Sì a Correggio secondo e terzo gol della Correggese che sta già vincendo 3 a 0 sul Real Forte Quercetta mentre la Bagnolese sta vincendo a Seravezza con le due squadre già intanto attenzione attenzione perché c'è Calamai Calamai limite dell'aria Calamai uno contro uno con Righetti ancora Calamai il tocco per Carli la conclusione la palla fuori occasione per il Prato con Filippo Carli al minuto 19 conclusione che è terminata a lato ma c'è deviazione evidentemente l'arbitro ha visto la deviazione del portiere Carcani la palla che era terminata sul fondo e allora a questo punto sarà calcio d'angolo per il Prato occasione per Carli al diciannovesmo Labbate termina con i risultati siamo rimasti a mezzo Sì Seravezza Bagnolese 0 a 1 San Maurese Sasso Marconi 0 a 1 questo è un risultato importante in chiave salvezza e allora attenzione perché c'è il calcio d'angolo per il Prato batte Marco Spinosa la battuta primo palo attenzione con la palla che viene calciata ancora da Carli poi la mette fuori i remedi prova a ripartire Russo che attenzione è velocissimo è in anticipo Fremura Fremura lo attacca Russo bravo in questa circostanza Fremura che poi viene attaccato da Russo l'attacco è vivo attenzione il recupero dell'Aglianese con Ballardini ancora Ballardini era di rigore Ballardini il tocco per Russo Russo il tocco adesso è per Brega 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 la conclusione di Brega fuori fuori altra opportunità per quanto riguarda l'Aglianese con Christian Brega al ventesmo con il Prato che in fase di ripartenza aveva creato davvero qualche apprezzione davvero perché insomma errore grave l'Aglianese qui poteva fare meglio poteva fare meglio soprattutto nel servizio da parte di Russo a Brega perché Brega a un certo punto era completamente solo con la difesa del Prato che ancora non si era riposizionata invece il servizio è stato un po' arretrato perché è dovuto tornare sul Mancino che non è il suo piede preferito e la conclusione infatti non è stata granché suggerimento in avanti da parte di Filippo Carli è un passaggio dolce dolce per il portiere Niccolò Carcani è una bella partita più che altro c'è grande tensione c'è anche buona affluenza di pubblico eh qua al Germano Bellucci quindi nonostante ovviamente le limitazioni legate alle norme anti-covid però un buono scorcio per quanto riguarda il pubblico intanto torniamo in cronaca perché c'è Giuseppe Giannini suggerimento centrale deviato e quindi il portiere Piretro può intervenire le riprese del nostro Messi per quanto riguarda le riprese vado a dire Roberto Finelli che torna nel Dream Team di TV Prato per offrirvi ovviamente le immagini di questa gara di questo super derby per quanto riguarda l'Aglianese e il Prato e allora la giocata larga a cercare Tommaso Cecchi che poi va da Spinosa avanza ancora Spinosa che suggerisce per Wattara di prima intenzione l'ex giocatore del Lavello preferito quest'oggi a Gabriele Falchini poi Wattara va in ripiegamento difensivo recupera un buon pallone bravo Wattara in fase di recupero palla Spinosa la fa girare va da Tognarelli poi suggerimento centrale ancora per Carli che va ancora da Calamai attenzione a Calamai la sovrapposizione da parte di Fremura premiata eccolo Fremura va sull'out poi ancora Calamai Calamai che tocca per Quassi l'arpiona Quassi ancora Fremura l'uno due con Quassi recupera Giannini porta a casa un calcio di punizione importante per quanto riguarda la formazione nero verde dell'Aglianese i minuti sono ventitré nel corso di questo primo tempo il risultato è uno a uno risultato importante in chiave playoff perché uno due del Corticella già retrocesso sulla Pro Livorno quindi Corticella due Pro Livorno zero dopo ventiquattro minuti ricordiamo che la Pro Livorno ha gli stessi punti del Prato a quarantotto Corticella che comunque sta onorando il campionato in maniera splendida perché insomma domenica scorsa ha fatto due a due in casa con il Sassomarconi che si giocava alla salvezza intanto torniamo in cronaca perché c'è Russo che la tiene in campo può andare Russo entra in area di rigore ancora Russo il tocco sul secondo palo dove è decisivo Cecchi a chiudere sulla possibile incursione di Brega altra opportunità per l'Aglianese con Russo con Cecchi che ha fatto la differenza è calcio d'angolo per i neroverdi primo corner dell'Aglianese ne ha già battuto uno anche la formazione ospite calcio d'angolo che va a battere in questa circostanza Remedi va a battere Remedi e quindi tutti dentro attenzione c'è coda c'è anche Colombini ovviamente c'è Ballardini ci sono tutti i lunghi dell'Aglianese con il Prato che sotto il profilo dei centimetri patisce un po' i lunghi dell'Aglianese la battuta di Remedi mette fuori la formazione bianco-azzura con Carli recupera Bianchi che poi va da Giannini attenzione a Giannini che allarga e va a cercare e trovare Brega la mette giù il super bomber dell'Aglianese ha difficoltà a superare Cecchi che sta facendo un buon lavoro sulla faccia rimessa laterale in favore dell'Aglianese Righetti la può mettere secondo palo palla che è troppo lunga e allora Fremura la può controllare e la stessa finisce direttamente sul fondo Aglianese più propositiva Prato più Guardingo sì diciamo che adesso la partita si è un po' calmata ha trovato una sua fisionomia anche tattica Massimiliano con l'Aglianese impegnata a fare la partita e a spingersi e apprezzare gli avversari e cercare di riguadagnare velocemente il pallone perché ovviamente è spinta dal bisogno dalla necessità di andare in vantaggio parte Fremura che poi va da Carli recupera bene Bianchi poi Giannini lo attacco ancora Carli i due giocatori che hanno giocato anche insieme perché sono entrambi duemila nelle giovanili del Prato Giuseppe Giannini e Filippo Carli la battuta da parte di Carcani che va a rinviare lungo la palla è ancora per Giuseppe Giannini l'intervento è di Fremura che va direttamente sull'uomo c'è calcio di punizione davvero davvero ingenuo dell'ex Livorno perché lì Giannini sarebbe potuto andare da ben poche parti eh sì un calcio di punizione assolutamente solare per quanto riguarda l'Aglianese la battuta di Remedi che va ad allargare per Righetti Righetti che deve però decentrarsi la palla è per Bianchi che poi torna da Righetti eccolo Coda che ha un po' di spazio lo attacca suggerisce per Remedi attenzione a Remedi attacca dritto per dritto ancora Remedi con l'esterno prova l'imbucata per Brega alza a campanile Tognarelli poi attenzione a Cecchi che non so come ma è riuscito a stopparla e poi va a effettuare questo suggerimento in avanti con grande eleganza con grande classe Francesco Colombini va ad allargare il pallone per Samuele Righetti che poi va da Lorenzo Remedi allarga la palla per Giuseppe Giannini adesso a campo aperto l'Aglianese prova ad andare la formazione neroverdi il tocco centrale attenzione per Russo Russo cadica al tiro Piretro questa volta c'è e para ancora Russo alla conclusione al minuto 26 con Giacomo Piretro che questa volta si è fatto trovare pronto all'intervento plastico senza grandi difficoltà ancora Filippo Carli ma lo attacca sempre come al solito Giuseppe Giannini che poi riparte da dietro da Claudio Shannamè che si è ritagliato nel corso della stagione un posto da titolare giocatore affidabile giocatore insomma che ha dimostrato di poter ancora stare in questa categoria senza problemi perde un pallone velenoso intanto Giannini la palla è per Spinosa limite dell'aria Spinosa poi va a allargare per Femura il costo è interessante ma troppo profondo palla che finisce direttamente sul fondo e quindi l'Aglianese può ripartire con il portiere Niccolò Carcani intanto un saluto alle due tifoserie ovviamente la tifoseria della Prato che sta seguendo questo match la tifoseria dell'Aglianese tutti incollati di fronte alla tv oppure agli apparecchi anche qualcuno da Fiorenzola probabilmente immagino proprio di sì per seguire questo che è una bella partita mi sto divertendo e questo è importante perché ricordiamo sempre che il calcio è un gioco forse il calcio è il gioco più bello a livello sportivo però chiaramente questo è uno spettacolo che vale la pena seguire la palla è gestita adesso da Marco Spinosa che va da Tommaso Cecchi suggerimento è per Calamai è in anticipo con la maglia numero quattro Tommaso Panelli che va a effettuare il rinvio la palla è per Ballardini poi sbaglia l'Aglianese recupera Spinosa il tocco è per Carli carica il tiro Carli la palla è deviata non la prende nemmeno Panella tiene in campo Carcani errori da una parte e dall'altra e alla fine poi Carcani ha messo tutti d'accordo adesso la partita dopo un avvio strepitoso ha cominciato ci fa prendere viato assolutamente comunque è chiaro che si gioca a ritmi alti ma era impensabile continuare come nel primo quarto d'ora anche perché fa davvero un caldo torrido c'è un'afa terribile e quindi bisogna pensare di arrivare al novantacinquesimo intanto va Spinosa la palla è per Wattara attenzione suggerimento largo adesso è un po' scoperta l'Aglianese Tavano attenzione la sua mattonella Tavano conclusione ribattuta da coda poi ancora il Prato adesso l'Aglianese sembra un po' in difficoltà in questo frangente sta uscendo il Prato la palla è per Carli che va poi a suggerire per Calamai la palla è per Cicchi ancora Carli largo a cercare Spinosa va Spinosa effetto è il cross Wattara palla fuori di poco con il colpo di testa da parte di Wattara al minuto ventotto il cross di Spinosa e Wattara di testa è andato vicino al bersaglio grosso con il pallone che è uscito di poco altra occasione per il Prato poteva fare meglio Wattara assolutamente sì Massimiliano occasionissima questa davvero porta spalancata in tuffo di testa bastava davvero piazzarla lì Carcani non avrebbe assolutamente potuto fare niente occasione gigantesca sprecata da Wattara Bianchi va dal russo sicuramente il più vivace nell'attacco dell'Aglianese il suggerimento è per Giannini poi ancora Remedi cambia gioco sbaglia Remedi vediamo se la tiene in campo Righetti si ce la fa Panelli va poi da Coda che sparaglia in avanti cerca Giannini lo trova che grande apertura di Coda ancora Giannini uno contro uno con Fremura il cross troppo profondo dall'altra parte c'è Giannini che la tiene in campo ancora l'Aglianese il conto cross di Giannini palla sul fondo è la palla che termina in fallo di fondo quindi insomma il Fiorenzola per il momento sta pareggiando per ora 0-0 non arrivano segnalazioni da parte dallo stadio velodromo Pavesi di Fiorenzola dove Fiorenzola che ricordiamo oggi sfida in mezzo Lara che domenica scorsa ha giocato contro l'Aglianese per ora il risultato lì è ancora di 0-0 quindi fino a questo momento anche il Forlì non sta vincendo se non vado errato l'ho sentito aggiornamenti insomma quindi al momento il pareggio lascia tutto invariato Forlì che ha una partita contro una squadra che gioca sicuramente col coltello fra i denti il derby fra Forlì e Marignanese Cattolica con la Marignanese attualmente per ultima in classifica due punti dietro il sasso Marconi c'è Gran Palla che ha recuperato Remedia attenzione all'Aglianese Russo 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 conclusione palla alta sopra la traversa ci ha provato al minuto 30 Federico Russo con la conclusione la palla che si è alzata sopra il montante della porta difesa da Giacomo Piretro intanto attenzione perché riparte Claudio va da Tavano che si allunga il pallone lo perde attenzione ancora all'Aglianese con Tommaso Panelli l'ex giocatore dello Scandici va ad allargare per Samuele Righetti che però preferisce ripartire da dietro con ancora Bianchi e quindi arriva la segnalazione del vantaggio del Fiorenzola a chi ha segnato secondo te Massimiliano ma Bruschi ovviamente Bruschi essendo sempre gli stessi Fiorenzola avanti quindi in questo momento era abbastanza chiaro visto il match casalingo con il mezzo l'area intanto attenzione all'Aglianese Remedi l'attacco è vivo Remedi il tocco dentro non si conclude questa opportunità per l'Aglianese recupera ancora Giannini la palla è in fallo laterale tiene bene il Prato ancora Remedi prova a passare Ballardini Remedi la palla è per Giannini che la tiene in campo e già fa tanto ancora Giannini uno contro uno con Fremura passa Giannini la palla termina sul fondo con Fremura che mette bene il corpo e in questa circostanza ostruisce il passaggio a Giuseppe Giannini manca un po' di cattiveria là davanti per quanto riguarda sì forse un po' leziosa un po' scolastica la manovra la formazione neroverde negli ultimi 16-20 metri e si deve sicuramente avere un po' più di concretezza in questo momento della partita intanto è arrivato il pareggio del Seravezza contro la Bagnolese a gol di Grassi intanto la palla viene recuperata ancora dalla formazione neroverde con il suggerimento in avanti a cercare Tommaso Panelli Erika Medeo Ballardini adesso è Bianchi che fa il metronomo lì nella zona centrale del campo l'ex giocatore della Genoa e delle giovanili ovviamente del Genoa e della Lazio suggerimento largo per Giuseppe Giannini che questa volta sbaglia e la palla termina in fallo laterale applaude Matteo Capecchi anche lui si gioca tanto si gioca un campionato si gioca la possibilità insomma di scrivere il suo nome nella storia dell'Aglianese più tranquillo Aldo Firicano che chiaramente ha una grande esperienza tante partite in Serie A anche per Aldo Firicano una coppia centrale Firicano-Coda non sarebbe male l'abbate assolutamente no davvero davvero una coppia importante il Firicano che ha giocato anche tanto in Champions League con la Fiorentina intanto attenzione Cristian Brega area di rigore ovviamente del Prato Brega il tocco senza l'attenzione Ballardini Ballardini che apre troppo il piattone e si divora si divora la possibilità di portare avanti l'Aglianese al minuto trentatré Ballardini si è divorato nel vero senso della parola la possibilità di portare avanti i Nero Verdi altra occasione per l'Aglianese che continua a sbagliare tanto riparte Marco Spinosa crede il Prato il suggerimento è per Quassi che salta con un tunnel l'avversario va a Quassi lo attacca Remedi c'è il calcio di punizione per il fallo di Remedi su Quassi buona fino a questo momento la prestazione di Thomas Quassi ma noi facciamo un giro dagli altri campi con il nostro Andello Abate perché chiaramente vogliamo sapere quello che sta succedendo sugli altri terreni di gioco per avere sempre live la situazione perché qua si gioca ad Agliana ma si gioca su tutti i campi ed è la penultima giornata del campionato di serie di Gironedì la base Seravezza Bagnolese uno a uno Rimini Ghivizzano zero a zero Progresso Lentigione zero a zero Forlì Marignanese Cattolica zero a zero Fiorenzola Mezzolara due a zero raddoppio del Fiorenzola Corticella Pro Livorno due a zero Correggese Real Forte Cocceta tre a zero e San Maurese Sasso Marconi zero a uno anzi è arrivato ora il vantaggio della Marignanese a Forlì quindi perde anche il Forlì questa è una buona notizia per il Prato Spinosa va ad allargare per Shanna Mech e la rimette mette fuori coda poi prova a ripartire Bianchi ma l'Aglianese è tutta dietro la linea del pallone e quindi il fallo subito da Bianchi consente alla formazione nero verde di alzare il proprio baricentro adesso bisognerà dosare anche le energie sarà importante perché fa un gran caldo e qui si gioca ogni tre giorni Giuseppe Giannini è in anticipo Alan Fremura recupera Giannini Quante volte ha già fatto la fascia Giannini avanti e indietro? Non lo so se ha il contachilometri sicuramente sarà uno di quelli che avrà il il chilometraggio più alto giocatore davvero importante per quanto riguarda l'Aglianese la palla è per Tommaso Panelli attenzione a Panelli che va ad allargare per Righetti la mette Righetti di prima intenzione attenzione Fremura anticipa Giannini poi Ballardini la palla è per Russo limite nell'area Russo palla alta sopra la traversa ancora lui ancora lui ancora Federico Russo tira sempre Russo la batte è sempre si fa trovare pronto e libero al limite dell'area di rigore ancora però non ha trovato lo specchio questa era una conclusione in cui probabilmente l'ex giocatore di San Donato Tavarelle poteva forse fare qualcosa di meglio e allora riparte Claudio Schandamè eccolo qua giocatore di grande esperienza di grande classe che tocca per Ciccio Tavano poi va Marco Spinosa che allarga per Fremura ancora Fremura poi c'è l'intervento di Colombini un po' ruvido ma il giudicato regolare su Guattara ma questo è un duello ovviamente tutto fisico c'è chi ha qualche difficoltà ma riesce comunque a controllare il pallone e allora lo stesso arriva l'MLM dalle parti del portiere Giacomo Piretro si ricomincia con Claudio Schandamè che non ha soluzioni nelle vicinanze e allora va a proporre questa sciabolata in avanti attenzione c'è Tavano ma c'è anche Carcani perché aveva calcolato in maniera corretta e rimbalzo ma con Tavano forse era meglio non fidarsi perché insomma giocatore che riesce sempre a trovare dalle proprie caratteristiche la giocata vincente in questo questa situazione invece bravo il portierino dell'Aglianese Fremura in due tempi Wattara poi Spinosa sbaglia recupera in questa circostanza Bianchi va da Brega con il petto Brega poi ancora Spinosa che salta l'avversario parte ancora Spinosa il tocco centrale a cercare Quassi poi Calamai la palla gestita sempre dal Prato con Carli con Fremura ancora Fremura in avanti a cercare Quassi C'è Coda che fa buona guardia lo sposta in maniera tale che il giocatore del Prato non possa intervenire pallone termina in fallo laterale otto minuti al termine della prima frazione è sempre uno uno a uno al Germano Bellucci d'Agliana con il commento di Massimiliano Masi il commento tecnico di Andrea Labbate le riprese del nostro Roberto Bob Finelli allora torniamo in cronaca con la palla che viene gestita ancora dall'Aglianese con Righetti che va da Ballardini attenzione Ballardini la mette Togliarelli la ricaccia fuori poi Spinosa limite dell'aria ancora Spinosa che poi va a toccare per l'uscita del Prato con Cecchi Wattara poi Carli lo attacca Remedi il fallo è di Remedi il calcio di punizione è in favore della formazione Biancazzurra del campionato Massimiliano in cui faticava anche a trovare una maglia da titolare ha ritrovato una condizione fisica e atletica davvero eccezionale in questa parte finale del match indubbiamente uno dei giocatori più positivi in queste ultime giornate per l'Aglianese Remedi sta facendo la differenza in questo finale di stagione giocatoria che come diceva Andrea Labate ha avuto un periodo di appannamento che poi insomma fondamentalmente ci può anche stare una stagione lunga estenuante come dice Labate la più lunga che sia mai esistita e quindi insomma direi che la gestione delle forze è assolutamente fondamentale non eravamo mai arrivati il 16 giugno a dover giocare la penultima di campionato Massimiliano nei campionati direttanti che di solito a metà maggio sono già belle che finiti e vabbè queste sono le annotazioni che solo il nostro Andrea Labate con il suo almanacco del calcio ha sempre a disposizione intanto Carcani ha qualche difficoltà va a effettuare il rinvio poi interviene Shannamè sono un po' calatere sui ultimi della partita mi sa che qua ci vorrà una bella bottiglia d'acqua fresca perché non ti parlo di te caldo visto che fa un caldo assolutamente infernale però era chiaro che non si potesse andare ovviamente a quella che bisogna di sali minerali Massimiliano come all'inizio assolutamente Wattara attenzione qua si Wattara 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 ma che intervento ha fatto Colombini ma che intervento ha fatto Colombini trepitoso questo non è un gol ma poco ci manca al minuto 39 Colombini monumentale ha fermato Wattara solo davanti a Carcani giocatore davvero straordinario Francesco Colombini non è a caso definito il miglior difensore della Serie D negli ultimi tre o quattro anni davvero una chiusura incredibile sembrava staccatissimo lontanissimo da Wattara invece ha voluto uno un'inspirata come diceva il compratto Sandro Ciotti davvero di grande livello e calcio d'angolo sta crescendo il Prato in questo finale la battuta di Spinosa mette fuori ancora a coda vede un fallo invece il direttore di gara Davide Giacometti di Gubbio con il calcio di punizione in favore dell'Aglianese con il Prato che sta crescendo e con l'Aglianese che sta un po' soffrendo e qua insomma sarà un episodio a decidere questo match perché le due squadre sono davvero molto molto vive si gioca si gioca veramente la partita che vale un campionato per entrambe si vede davvero una partita giocata ad altissimi ritmi con grande intensità con grande voglia con grande grinta da entrambe le parti Erika Medeo Ballardini attenzione a Righetti che non si capisce con Ballardini lui voleva andare Righetti gliela voleva dare largo e la palla finisce in fallo laterale e i due ovviamente hanno qualcosa da dirsi intanto riparte il Prato quattro minuti quattro minuti al termine del primo tempo siamo al quarantunesimo minuto di gioco Massimiliano Tognarelli la palla poi per Quassi con la battuta in avanti di Cecchi Wattara attenzione a Carli Coda palla per Remedi che poi va a commettere fallo su Carli il fallo è di Remedi tra l'altro Carli e Remedi rimangano anche a terra contusi il calcio di punizione è in favore del Prato tra l'altro questa Andrea Labate è la penultima partita della gestione Paolo Toccafondi perché dal primo di luglio il Prato si chiude quindi un capitolo importante l'ultimo derby l'erby ovviamente della Piana perché poi domenica il Prato giocherà in casa con il Seravezza quindi un altro derby però ovviamente l'ultimo derby della gestione di 42 anni della famiglia Toccafondi poi dal primo luglio arriverà Stefano Commini con la sua nuova società con chiaramente un'epoca nuova che si apre e che con grande interesse ci apprestiamo a seguire intanto il colpo di testa da parte di Cecchi in avanti Coda ma al centrocampo il Prato ha qualcosa in più Patisse l'Aglianese dovrà correre ai ripari l'allenatore Capecchi ancora Tavano 1-2 con Guattara ancora Coda poi Brega poi Remedi che la ciabatta e la palla in avanti con Shandamè che la rispedisce più lontano che vuoi attenzione a Guattara che prova lo stop palla che termina in fallo laterale qui c'è voglia di riposo da entrambe le parti Sì è proprio quella l'impressione che si ha avuto negli ultimi 5-10 minuti del primo tempo le squadre mi sembrano adesso cercare di respirare un po' soprattutto l'Aglianese in vista della ripresa che sarà sicuramente decisiva La palla in avanti è per Russo poi Brega con questa sventagliata nella terra di nessuno palla in fallo laterale squadre stanche squadre stanche da entrambe le parti sicuramente sicuramente davvero è un caldo vedete che non non vedete le ombre perché non c'è il sole ma ripetiamo c'è una cappa di umidità davvero qui nella piana di Agliana che fa davvero male la rimessa in favore del Prato Thomas Quassi va da Tommaso Cecchi che poi la gira per Tognarelli Spinosa nuovo vantaggio della Bagnolese ai Pozzi di Seravezza quindi Seravezza 1 Bagnolese 2 la palla poi per Fremura lo scontro con Giannini il fallo è di Fremura ammonito Fremura ammonito Fremura per questo fallo su Giannini è stato un vero e proprio colpo tra i due petti con il giocatore dell'Aglianese che è rimasto con tutto a terra il conto degli ammoniti con il nostro Labbate che fa tipo il notaio Cristian Brega da una parte e Alan Fremura da quell'altra quindi un ammonito per parte attendiamo anche la segnalazione di recupero con i due ammoniti probabilmente ci sarà un minuto di recupero 44 sul cronometro ancora un minuto poi sarà recupero suggerimento in avanti con Tognarelli che di testa la mette fuori poi Ballardini il fallo di Ballardini su Calamai interviene ancora Davide Giacometti di Gubbio campionato quello di Sardeggi lunedì che quindi sta vivendo le ultime due giornate si gioca di mercoledì quest'oggi si gioca sabato l'ultimo turno per l'impegno della nazionale che sarà di scena domenica alle ore diciotto e quindi la Lega Nazionale di Lettanti ha anticipato Massimiliano non per fare polemica ma se ne accorta un po' tardi la Lega Nazionale che rigiocava la nazionale sta da quattro mesi il calendario degli europei meglio tardi che mai e quindi c'è la giocata da parte di Cecchi poi esce Colombini senza recupero senza recupero senza recupero con precisione svizzera il telegramma del primo tempo affidato al nostro Andrea Lagbate e poi anche noi ci andiamo a bere qualcosa di fresco un inizio a Fulmicotone il primo quarto d'ora davvero stupendo con tantissime occasioni da una parte e dall'altra occasioni che sono proseguite anche nel corso della parte restante il primo tempo nonostante i ritmi sia calato per ora un pareggio giusto a Tavano a risposto Brega bene finisce uno a uno il primo tempo noi ci fermiamo ci sentiamo tra qualche minuto per tutte le emozioni della seconda frazione di gioco rimanete lì incollati lì perché il secondo tempo promette spettacolo a più tardi grazie a tutti 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 Non ci sono cambi, poi ovviamente il nostro Labate ci dirà, l'arbitro è pronto a dare il via al secondo tempo. Allora, 45 minuti più recupero per definire un derby che sarà fondamentale per il futuro di entrambe le formazioni. Andrea Labate. Rileggiamo le formazioni in campo che sono le stesse, che hanno cominciato il match alianese in campo con Carcari, Giannini, Righetti, Panelli, Colombini, Coda, Ballardini, Remedi, Brega, Russo e Bianchi. Risponde il Prato che in questo secondo tempo attaccherà da sinistra verso destra. Secondo il nostro vostro punto di osservazione in campo con Pireta, Quasi Calamai, Spinosa, Tavano, Cecchi, Carli, Sciannamè, Fremura, Otterà e Tognarelli. 3-5-2 per l'Aglianese, 4-3-1-2 per la formazione ospite. La rimessa da parte di Colombini, poi la palla che filtra, attenzione, la mette fuori Sciannamè. Poi ancora l'Aglianese con Erika Medeo Ballardini. Ha cambiato qualcosa tatticamente Capecchi, Labate. Intanto seguiamo, poi ce lo dirai, perché la palla è per Giannini. È fuori gioco, allora ce lo può dire Labate. Se l'Aglianese ha cambiato qualcosa. Non mi pare, Massimiliano, una prima occhiata alla disposizione tattica. È la solita con Russo e Brega di punta. La difesa a tre, formata da Colombini, Coda e Panelli, da destra a sinistra con gli esterni. Che sono ovviamente Giannini e Righetti che hanno corso tantissimo nel primo tempo. Vediamo quanto riusciranno a reggere e a resistere anche nella ripresa. Le grandi manovre sulle due panchine si stanno scaldando. Tutti intanto Coda su Wattara, che ha avuto un'occasione colossale nel primo tempo di testa. La palla è uscita davvero di poco. Le soluzioni per l'Aglianese più che altro sono due. Quelle di Giordani e quella ovviamente legata a Tommaso Bellazzini. Intanto, si è fatto male Coda? Si è fatto male Coda, questo potrebbe essere un problema. Vedo che sta allacciandosi le scarpe il difensore Jacopo Gelli. Potrebbe essere il suo momento. Problema muscolare. Stavo seguendo la partita in un altro spazio del campo. Però Coda è a terra. Vedo che ha difficoltà a rialzarsi. Quindi molto probabilmente ho un problema. No, forse è un colpo all'altezza della testa, mi sembra di capire. Quindi vedremo, vedremo gli sviluppi nei prossimi minuti. Intanto Firicano parla con Calamai, Coda si rialza. Se ha un problema di natura muscolare, esce. Se invece è un colpo, rimane in campo. Intanto si scalda Gelli. No, lo butta dentro, mi sa. Capecchi, non lo so. Ora vediamo. Vediamo. Certo, prima di togliere Coda faranno tutte le verifiche del caso. Grande esperienza per Coda con Bellazzini e Giordani. I primi cambi di capire. Probabilmente sì, se il risultato rimane così. Intanto avete visto, grazie all'incorratura del nostro Roberto Bobbinelli, tutti i giocatori dell'Agnese si sono spostati per andare a riscaldarsi nella parte destra del settore di campo. Appunto tutti i giocatori, sia quelli del Prato che quelli dell'Agnese, si stanno riscaldando qui sulla destra dall'incorratura del nostro terreschermo. E allora non era un problema di natura muscolare, ma era un colpo preso in precedenza all'altezza della testa e quindi è rientrato Coda, meglio così, con un altro protagonista che rimane in campo. Intanto attenzione all'Agnese con Russo. Ancora Russo non ha soluzioni, però deve andare forzatamente da solo. Prova lo slalom Russo, ma in mezzo ai difensori del Prato. Ancora Russo che poi chiede troppo alle sue doti balistiche sicuramente eccellenti. qua Russo ha sbagliato tutto con questa conclusione fuori misura. È partito bene Russo, poi ha provato il tiro, un tiro che sicuramente non passerà agli annali per quanto riguarda la pericolosità dello stesso. Spinosa riparte ancora Spinosa, avanza Spinosa, sempre palla al piede, poi va ad allargare per il Prato con Carli che poi suggerisce per la giocata di Wattara a Quassi. Poi ancora Tavano allarga a cercare Carli, attacca ancora vivo per il Prato che ha finito increscendo nel corso del primo tempo. Fremura, il cross è ribattuto, poi la palla è per Remedi, Remedi che adesso deve girarsi, lo riesce a fare, la palla termina il fallo laterale, la rimessa è ancora per il Prato. Prato che sta provando quindi ad alzare i giri al proprio motore, sta cercando di tornare in vantaggio dopo il gol iniziale realizzato da Ciccio Tavano. Ancora Filippo Carli che prova ad andare sull'auto, lo attacca Giannini, rimpallo, rimessa dal fondo, dice il direttore di gara che è il signor Davide Giacometti per quanto riguarda appunto la sezione di Gubbio. Si riparte con Giuseppe Giannini, il tocco centrale è per Remedi, che va da russo, bravissimo, nella fattispecie Shannamè, che sta diventando davvero una sicurezza, giocatore che sta trovando di partito dopo partita condizione, ma sta dando anche affidabilità a tutto il reparto difensivo del Prato. La palla è ancora per la formazione bianco-azzurra. Fremura, c'è la chiusura da parte di Bianchi e la palla che termina in calcio d'angolo. Meglio il Prato in questi primi cinque minuti per quanto riguarda il secondo tempo. La sensazione è che l'Aglianese debba cambiare qualcosa. Eh sì, l'Aglianese è un po' sulle gambe, urge un cambio per quanto riguarda Matteo Capricchi, per quanto riguarda l'Aglianese e le soluzioni ci sono, perché in panchina oltre... Intanto seguiamo il calcio d'angolo, poi vi dirò la composizione della panchina dell'Aglianese. La battuta è di Spinosa Carcani e senza assolutamente difficoltà può andare a recuperare. Ora parte Giannini che ha il turbo come al solito, parte anche Ballardini, la palla è per Russo, attenzione Russo fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco e quindi calcio di punizione in questa circostanza. Bene Piretro che era uscito ed aveva fermato il giocatore dell'Aglianese. Fuori gioco, mi è sembrato abbastanza netto quello di Russo. Sì, buon movimento da parte della linea difensiva del Prato che ha fatto quel mezzo passo per mettere in fuori gioco l'attaccante dell'Aglianese. Ottimo movimento, ripetiamo, dei difensori del Prato. La palla adesso è gestita da Calamai, poi ancora Calamai dopo l'uno-due con Carli, Wattara, attenzione a Wattara che si deve girare, torna da Calamai, ancora largo per Fremura, poi la palla è per Quassi. Ancora Quassi, poi Spinosa, limite dell'area, poteva anche provare la conclusione, preferisce andare da Cecchi che ricomincia sempre da Spinosa. Adesso il Prato alza il proprio baricentro, in difficoltà l'Aglianese, minuti sei della ripresa. La palla è per Fremura e cross, attenzione, Panelli stacca, Remedi, con il petto, con classe, la mette giù, poi passa bene, Remedi e tocca per Bianchi che va da Russo, di prima intenzione, Giannini allarga bene per Ballardini, attenzione perché c'è Righetti che può andare, ecco l'ho servito, anzi il suggerimento è per Brega, la sovrapposizione di Righetti, ancora Brega, Brega, la palla è per Righetti, l'attacco è vivo, il cross di Righetti, calcio d'angolo, l'Aglianese prova a mettere la testa avanti, bravo, Cecchi nella circostanza in Teichel a mettere la palla in calcio d'angolo, allora tutti dentro i lunghi della formazione neroverde, minuti sette e venti, nel corso di questa ripresa, sempre uno a uno, nel corso di questa gara tra l'Aglianese e il Prato, batte Ballardini, andrà sul secondo palo a cercare Colombini, ecco la battuta, Colombini di testa, palla fuori, palla fuori, Colombini, al minuto sette, alla prima opportunità per quanto riguarda questa seconda frazione di gioco, il colpo di testa di Francesco Colombini, altra prestazione per il momento assolutamente positiva, attenzione perché il Prato sta per mettere dentro Aiman Sanat, uno che potrebbe spezzare la partita, perché ha veramente il cambio di passo, salta l'uomo, quindi giocatore che con le squadre stanche potrebbe fare la differenza, pronto mi sembra anche Mastino, se non vado errato, quindi ci sarà un duplo cambio, un duplo cambio, perché arriva anche Masini, sì, Masini, non Mastino, quindi Masini, sia Mastino che Masino, forse, no, 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 questo è Sanat, numero sette Sanat, vediamo quello che sarà la decisione, arriva anche Mastino, si aveva visto bene l'abbate, quindi Mastino, Mastini, cambia gli esterni, mi sa, tutti gli esterni, intanto esce Coassi, esce Coassi con Sanat, quindi, trequartista per trequartista non dovrebbe cambiare anche a livello tappo, uno dei migliori del Prato, Quassi, è questo del primo tempo, cambio un po' inaspettato, se mi passate il termine, poi, esce il numero tredici, Cecchi, dentro il diciannove Masini, chi cambia gli esterni, mi sa che toglie poi anche Fremura, perché Mastino può fare solo l'esterno, e quindi salvo altre, diciamo, soluzioni diverse, fuori Fremura, e dentro Mastino, vediamo se ci ho preso, vediamo se ci ho preso, ma sono cambi ruolo per ruolo, eh sì, Alan Fremura, non ho vinto niente, ma ci ho preso, eh? a livello tattico, quindi non credo, Massi, cambi granché nel Prato, sono cambiati solo gli interpreti, un po' di birra fresca in campo, diciamo. Sì, cambiano gli esterni, Mastino e Masini, fuori Fremura e Cecchi, eh sicuramente Cecchi un pochino più bloccato in fase difensiva. Però positivo, senza errori. Assolutamente. Mentre Fremura un po' ha sofferto la spinta di Giannini, anche se comunque poi è riuscito a tenerlo a bada, sicuramente più positivo dei giocatori che sono riuscito, è Coassi che ha giocato, sicuramente una buona partita. Sì, Coassi sicuramente è uno dei migliori del Prato, sempre molto lucido, anche se all'arriente dopo un lungo periodo in cui è stato messo in naftalina, da Aldo Ferricano. Dentro Sanat che potenzialmente potrebbe fare la differenza, quello che volevo dire in precedenza, ovviamente andando a consolidare quello che ha detto la Bate, cioè la buona prestazione di Cecchi, però sia Masini sia Mastino hanno sicuramente più gamba in fase di ripartenza rispetto a Cecchi che era più propenso a coprire che a spingere. Questo è il discorso legato a questo gamba. Anche nell'Aianese entra Soldani al posto di Bianchi. Entra quindi Soldani fuori un 2001, dentro il 2001, poi tiene anche il conto delle quote il nostro Labbate. Quindi Soldani per Bianchi, 2001 per 2001, Roma per Bologna. 2001 per 2000, Bianchi è un 2000. 2000, sì, sì. Ma vedi, mi fa il notaio Labbate, mi fa il notaio. Non si può sbagliare una virgola. Allora, 2000 per 2001, con Francesco Soldani, ex giovanili della Fiorentina, poi un anno in prestito al Bologna, l'anno successivo alla Pisa, sempre in primavera, e poi quest'anno l'arrivo qua ad Agliano, dove ha giocato nella prima parte del campionato, poi nella seconda parte è stato preferito Bianchi. Alla palla adesso è recuperata da Russo. La palla è per Righetti. Vediamo se si accende l'ex giocatore delle giovanili del Perugia. Righetti, il cross è interessante, Piretro non interviene, è un po' lunga la palla, poi la mette fuori Masini, arriva Colombini, che anticipa Tavano, poi Remedi, non c'è fallo, sì c'è fallo, sul Remedi, calcio di punizione per l'Aglianese, già battuto. La palla adesso è per Tommaso Panelli, largo ancora per Righetti, può andare Righetti, uno contro uno, ancora Righetti, attenzione, in area di rigore, Righetti, il cross è interessante, stacca ancora Shandamè decisivo, che anticipa Russo, la palla è per Remedi, la può mettere Remedi, no, ci ripensa, la mette adesso, Brega, Piretro c'è, forse Brega è anche fuori gioco, ma l'intervento di Piretro è stato in questo caso assolutamente proprio ideutico a sventare la minaccia, perde palla Spinosa, è una palla velenosa, Remedi, attenzione, Remedi, Remedi, sbaglia tutto, Remedi, perché non c'è nessuno che va nello spazio, Spinosa aveva perso una palla, molto importante, Remedi bene nel recupero, male nella finalizzazione, adesso può succedere di tutto la base, mi sembra ci sia una stanchezza in campo colossale. Sicuramente le squadre si stanno anche allungando parecchio, quindi c'è spazio per un break da una parte e dall'altra. Rilancio lungo, Sanat, che sicuramente è fresco, ma con coda anche a livello fisico, guardate la differenza tra i due, insomma, c'è una differenza davvero importante proprio a livello di struttura e anche di esperienza, un 2002 con Coda, che insomma è un 85. La palla recuperata ancora dall'Aglianese con Ale e Camedeo Ballardini, che va... Sembra con le idee un po' più lucide adesso l'Aglianese. Sì, e poi insomma l'Aglianese ha ancora due crack importanti, Bellazzini e Giordani. Giordani tra l'altro l'uomo della provvidenza. Volendo anche Bangu. Eh, volendo anche Bangu. Masini interviene su Giannini, suggerimento in avanti, attenzione, Uattara, Panelli, il portiere Carcani. Si è mossa bene la difesa dell'Aglianese in questa circostanza, bravo Panelli. Intanto riparte ancora Remedi, alta prestazione sopra le righe di Lorenzo Remedi. Le sta prendendo tutte lui a centrocampo, eh. La palla poi, poi mi ha sentito, ovviamente sbaglia il suggerimento, ma questo può succedere. Sanat lotta con Soldani, il fallo è di Soldani. Il fallo è di Soldani su Sanat. Quindi calcio di punizione per il Prato. Quando ti aspetti Bellazzini? Me lo aspettavo già, devo dire, Massimiliano. E soprattutto anche Giordani, onestamente. Forse più Bellazzini che Giordani. E adesso altro cambio per il Prato con Falchini, che mi sa prenda il posto di Tavano che vedo un po' sulle gambe. Allora il Prato mette fisicità davanti perché ci sarà la coppia Uattara-Falchini, quindi tanti centimetri, ovviamente meno classe per quanto riguarda la formazione bianco-azzura. Adesso l'arbitro chiama il cambio, però Tavano ha detto no, fermi, non esco perché voglio battere questo calcio di punizione. Se lo dice Tavano si fa così. Infatti hanno fermato il cambio con Filicano che ha detto all'assistente del Prato fermo, fermo, che in questa punizione si batte con Spinosa e Tavano che rimane in campo. Questo, vedi, Filicano ha dato queste indicazioni e visto che c'è, Finelli ci inquadra anche Falchini e l'inserviente che sono fermi e che ovviamente non vengono. Andiamo sulla punizione. Andiamo sulla punizione, sì, che è meglio perché è interessante. La batte Spinosa direttamente verso la porta, non granché. Tanto Rimini perde in casa col Givizzano, 0-1. Quindi parte il Prato stanno perdendo tutte le squadre che lottano per i play-off. Adesso esce Ciccio Tavano e che dire di Tavano? Ha segnato e questo è quello che conta. Ancora una prestazione, non ha fatto tanto, ma ha fatto quello che conta nel calcio. Il gol. Quindi gli fa un applauso perché comunque è un'icona del calcio Ciccio Tavano e poi segna sempre Tavano per il Prato. Forlì perde in casa 2-0 con la Marignanese. Quindi ripetiamo, Rimini sta perdendo, il Forlì sta perdendo, il Pro Livorno sta perdendo attualmente con questi risultati. Prato, quinto in classifica e dentro i play-off. Succede di tutto, è un campionato bellissimo, dai, è un campionato straordinario dove non c'è niente di scritto, dove tutto può succedere con il Fiorenzola che sta ancora vincendo la batte, sì 2-0. Sì 2-0. E quindi insomma il Fiorenzola se finisce così va in testa alla classifica. Esattamente. Mi sa che poi diventa dura per la Marignanese in vista dell'ultima giornata. E peraltro il Fiorenzola va a Sasso Marconi che in questo momento è a pari punti con la Marignanese al penultimo posto in classifica. Mamma mia. Sanat, conclusione, palla che esce a lato. È un campionato stupendo, inutile, non si può staccare la spina. Qui mi sa che ci si gioca tutto fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. È bello così, è giusto così, è davvero un campionato straordinariamente equilibrato per la vittoria finale. per i playoff, per la retrocessione. Il rinvio da parte di Carcani, stacca Brega, la palla è per Russo, c'è Righetti, attenzione al fuorigioco, Righetti in posizione regolare, il tocco è per Russo, attenzione, Russo e Shandamè, passa Russo, ancora Russo che poi va a cozzare, attenzione, ancora l'attacco è vivo, Brega, si deve girare, non è cosa da poco, la palla è per Giannini, Giannini, il tocco dentro, per Remedi che la mette, Piretro, Piretro, senza problemi, va ad accartocciarsi in presa, minuto sedici, in questa ripresa, è sempre uno a uno, al Germano Bellucci, tutto può ancora succedere, manca praticamente meno di mezz'ora, al termine di una partita, comunque bellissima, Carli, la palla che viene recuperata, adesso da Calamai, che poi va da Wattara, attenzione, uno due, Wattara, Wattara, c'è il provvedimento di scilinare, calcio di punizione, non ho visto bene la batte. Calcio di punizione per fallo di Wattara, probabilmente un tocco con braccio, intanto è il momento di Bellazzini, ti ha sentito Capecchi, esce Remedi. Ah, esce Remedi dentro Bellazzini, sinceramente mi ha un po' sorpreso questo cambio, Poi Remedi, ovviamente si arrabbia anche con il, con il segnaline, vabbè, forse, era per non arrabbiarsi con Capecchi, che si era arrabbiato con il segnaline, Remedi, come giudichi questo cambio? Si perde un po' di quantità, si guadagna qualità, questa la la. Ma è l'incastro delle quote, forse. Ma poteva anche uscire Ballardini, e se vuoi mettere dentro Bellazzini, doveva uscire uno, fra Remedi e Ballardini, questo è evidente, a meno che non tu levassi una delle punte, ma io penso che il prossimo cambio sarà Giordani per Russo. Questa è la decisione da parte di Matteo Capecchi, che ha tolto però il giocatore che ha recuperato forse il numero più importante di palloni, eh, dell'Aglianese, questo, eh, credo che vada evidenziato intanto ancora, coda di testa, la palla che arriva dalle parti di Carcani, che c'è, e quindi può intervenire, vediamo come si riposiziona, fai il ruolo di Remedi, Bellazzini, la base, sì. In realtà dovrebbe giocare un po' più avanzato, una sorta di tre, quattro, uno, due, adesso per l'Aglianese, con Bellazzini in una posizione di trequartista, in realtà, Bellazzini libero da compiti tattici di fatto, si dovrà muovere un po', dove trova lo spazio. Qualità importante di Tommaso Bellazzini, intanto attenzione Ballardini, va da Bellazzini, che poi va da Brega, uno, due, Ballardini, Brega, ancora Brega, chiude Tognarelli, riparte Spinosa, ancora Spinosa, è messa male l'Aglianese, campo aperto, Spinosa, suggerimento per Wattara, 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 e ancora errore di Wattara, con Carcani, che non riesce ad, diciamo, chiudere la partita, con Carcani, bravo in uscita, ad intervenire. La palla adesso è per Righetti, adesso l'Aglianese è un po' scoperta, poi Soldani va a lottare con Sanati, il fallo questa volta è per l'Aglianese. Grande nervosismo in campo, Russo con Mastino, no, non si gioca, deve far ripartire il tutto l'arbitro, adesso ci si avvia, negli ultimi venticinque minuti. No, mi ero sorpreso che non era neanche, stata troppo nervosa come partita, considerando l'importanza della posta in palio, mi aspettavo qualche scontro e qualche screzio maggiore, rispetto a quanto è successo finora, finora la partita è sticolata via, facile e facile anche per il direttore di gara. E allora, a calcio di punizione, batte Tommaso Bellazzini con il sinistro, Spinosa, la palla adesso, è per Panelli, entra in area di rigore, ancora Panelli, due avversari su Panelli, che si gira e porta a casa una rimessa laterale. Bravo Tommaso Panelli, bene anche la difesa del Prato, adesso carica a testa bassa l'Aglianese, attenzione, questo è lo schema dell'Aglianese, il solito, che abbiamo visto tante volte, quindi con Righetti che va a cercare la spizzata di Brega, questa volta però stacca Spinosa, ancora Panelli, Calamai, il fallo è di Panelli, su Calamai, il calcio di punizione è in favore della formazione bianco-azzurra del Prato. Calcio di punizione con Tognarelli che la sta per battere, Giordani che è l'ultima carta praticamente da giocare per quanto riguarda Matteo Capecchi, non è al meglio però uscito infortunato dalla gara di Budrio con il Mezzolara, quindi molto chiaramente gli sarà riservato una ventina, quindici minuti a questo punto perché insomma siamo veramente al ventunesmo e quindi mi immagino che verrà buttato dentro proprio per il finale. La palla è per Colombini, in avanti a cercare Russo e in anticipo con la maglia numero diciannove Masini, l'ex giocatore del Matelica che poi va da Shandamè, Shandamè che la calcia in avanti a cercare Uattara, Coda e Uattara, Coda viene colpito da Uattara, calcio di punizione per l'Aglianese, Uattara che sotto il profilo dell'impegno profuso va sicuramente elogiato, per quanto riguarda invece la propria propensione a concludere e a trovare il gol, ancora deve migliorare e tanto il giocatore è prelevato nel mercato di riparazione dal Lavello. Tanto è arrivato il pareggio del Forlì che nel giro di tre minuti ha segnato due volte, quindi Forlì due, Marignanese Cattolica due. E questo cambia sia per quanto riguarda i playoff, sia per quanto riguarda la processione, insomma, ma ancora c'è una vita da giocare perché... Avviciniamo alla metà del secondo tempo, siamo quasi a tre quarti di gara. Adesso le squadre sono stanche e quindi l'episodio farà la differenza, perché le squadre sono davvero stanche. Panelli imperioso, Bellazzini, ancora Panelli, sta uscendo bene, ancora Panelli, non lo prendono, ancora Panelli. Va su di lui Mastino, la palla è per Bellazzini, la può mettere Bellazzini, no? Poi ci ripensa, torna da Panelli. Il sinistro però non è il suo piede, quindi dovrà per forza fermarsi un attimo e poi porta la palla in fallo laterale. L'ultimo tocco è di Sanat, la rimessa è per l'Aglianese con Righetti. Dentro a cercare la spizzata di Brega. Glielo chiede proprio Brega, ho visto, gli ha fatto cenno e infatti Righetti lo va a cercare. Brega di testa, Shandamè la mette fuori. Poi Colombini, Colombini con Falchini. Panelli la rimette, Brega prova a tenerla, ma c'è l'intervento da parte di Shandamè. Poi il recupero da parte di Righetti che la può mettere dentro. La palla per Ballardini! Che calcia alto sopra la traversa! Che occasione al minuto ventidue per l'Aglianese con Ballardini che si è divorato la possibilità di portare avanti l'Aglianese e il recupero di Righetti che sta diventando decisivo e Ballardini solo davanti a Piretro ha messo alto. Cagionissima Aglianese! Seconda occasione sui piedi di Erika Medeo Ballardini dopo quella del primo tempo. Un'altra occasione capitata ancora al biondo centrocampista che anche stavolta non è riuscito a trovare la porta avversaria. Prova ad andare Mastino, l'ex giocatore del Real Forte Querceta, un fedelissimo del direttore sportivo del Prato, Raffaele Pinzani, subisce fallo e allora va a cercare Filippo Carlici. È il fallo da parte di Francesco Soldani. Il calcio di punizione è in favore del Prato. Vediamo se si accende questa partita, questo derby in questi ultimi praticamente 20 minuti più recupero da giocare qua al Germano Bellucci di Agliana. È sempre uno a uno. È un risultato che in fin dei conti serve forse più al Prato che all'Aglianese, visti i risultati che stanno arrivando dagli altri campi, ma potrebbe anche non servire a nessuno perché entrambe le formazioni vorrebbero i tre punti per continuare a sognare i propri obiettivi. Vale a dire la Serie C, l'Aglianese, i playoff il Prato, Ballardini prova ad andare, l'attacca su Filippo Carli, la rimessa è per l'Aglianese, l'ultimo tocco è quindi del giocatore con la maglia numero 15 del Prato. La rimessa di Ballardini che va a cercare Soldani, la può mettere Soldani, ancora importante e decisivo il recupero di Masini. E allora è calcio d'angolo, tutti dentro, tutti a saltare. C'è anche Colombini, c'è anche Coda, c'è pure Panelli. Li lunghi dentro, torna Wattara per il Prato per cercare di dare qualche centimetro in più alla formazione bianco-azzurra. Chiama lo schema Bellazzini, la battuta, dentro il colpo di testa da parte di Russo e ancora palla sul fondo, rimessa dal fondo, non c'è deviazione. Rimessa dal fondo quindi per Giacomo Piretro dopo il colpo di testa di Russo che è molto bravo in questo fondamentale. Va sempre ad attaccare bene il primo palo con buon costrutto. Intanto recupera Righetti, la palla è per Falchini, attenzione Falchini, Falchini potrebbe provare il tiro, lo prova! C'è Carcani, c'è Carcani senza problemi. Ci ha provato Gabriele Falchini, l'ex giocatore del Real Forte Querceta. Attenzione poi a Soldani. La prima parte della stagione invece nelle file del Cascina in eccellenza, poi la Prodo al Prato. Il rinvio di Carcani, il colpo di testa di Shandamè, un rimpallo. Tognarelli, attenzione, perché Piretro non esce e quindi Tognarelli è costretto a mettere la palla in fallo laterale. Attacca a testa bassa adesso l'Aglianese. Ancora la formazione nero-verde. Bellazzini recupera poi il pallone, il Prato con Sanat che prova ad andare. Ancora Sanat l'intervento. Manco a dirlo di Colombini. Le prende tutte Colombini. Davvero la partita adesso giocata senza più tatticismi dalle due squadre. Le squadre si sono allungate, sono stanche, ma davvero non rinunciano ad attaccare anche se adesso l'Aglianese sta producendo il massimo sforzo per cercare il gol del vantaggio. È pronto Giulio Giordani, il crack dell'Aglianese per questi ultimi 19 minuti più recupero. Falchini, attenzione, spalle alla porta, riparte da Calamai. Adesso il Prato è molto stanco, lo vedo molto sulle gambe, la formazione di Aldo Ferricano. Ovviamente le motivazioni dell'Aglianese potranno portare la formazione nero-verde ad aumentare il ritmo perché quando lotti per la Serie C, quando lotti per un oggettivo così importante, chiaramente la fatica non si sente e questo è importante. Il Prato invece mi sembra un pochino più in difficoltà fisicamente. La palla adesso è recuperata sempre dall'Aglianese, il suggerimento è per Righetti che ha un aggancio splendido. Poi c'è l'intervento di Masini che è bravo, di Mastino, che è bravo ad intervenire. Poi l'arbitro non fischia e quindi si gioca, recupera Righetti che ha giocato una partita semplicemente straordinaria. La palla adesso è per Giannini che si deve fermare. Lo attacca Carli, altro giocatore estremamente positivo. Ancora Bellazzini in avanti per l'Aglianese. Il tocco largo per Giannini. Adesso tutti dentro, quelli della formazione nero-verde con Giannini che riparte da dietro da Colombini. Colombini deve fare obbligatoriamente girare per Coda. Coda non ha soluzioni, va da Panelli. Si muove tra le linee della difesa del Prato Russo. Eccolo servito. Ancora Russo. Prova a entrare Russo. Sempre Russo. Suggerimento per Righetti. Vediamo se la mette. Sì, la mette. La palla è per Russo. Russo, palla alta. Altra occasione per l'Aglianese con Russo al minuto 27. Sempre Russo. Stessa soluzione. Palla alta sopra la traversa. Adesso il cambio. Si gioca il tutto per tutto Capecchi. Esce Ballardini. Finisce un centrocampista. Entra una punta. Del resto non c'è più nulla da difendere. Mi pare giusto. E allora si gioca il tutto per tutto. Matteo Capecchi. Dentro. Giulio Giordani. Fuori. Erika Medeo Ballardini. Quindi avanti. Con tutte le bocche di fuoco. Con tutti gli attaccanti a disposizione. A cercare un gol. A cercare la vittoria. A cercare di continuare. A scullare il sogno della serie circo. Il politessa di Panelli. Imperioso. La palla è il prebrega. Attenzione. Il suggerimento è per Soldani. Ancora Soldani. C'è il fallo di Sanat. E allora tutti dentro. Tutti a saldare. Il Prato deve stringere i denti. Sta crescendo eh. L'Aglianese in questo momento sta davvero producendo uno sforzo in mane. La squadra nero verde per cercare il gol del 2 a 1. Adesso sta attaccando. Sta andando a mordere anche sui palloni vagani. Il Prato deve stringere i denti. È davvero stanca. La formazione bianca-azzurra. Quindi sta cercando di difendersi. Ma vedo proprio stanchezza nelle file del Prato. Potrebbe operare un nuovo cambio. Aldo Ferricano che capisce il pericolo. Capisce le problematiche della sua squadra. Ma adesso c'è calcio di punizione. Seguiamolo. Con grande attenzione. Con Matteo Capecchi che non sta nella pelle. Batte. Batte Bellazzini. Attenzione. Colpo di testa. Panelli. Panelli. Altra occasione gigantesca. Colossale. Con Panelli. Al ventinovesmo. Ma l'Aglianese non passa. Sembra stregata la porta di Giacomo Piretro. E quindi si riparte con l'Aglianese che ha avuto un'altra occasione. Colossale. Con Panelli. Uno dei migliori. Uno che ci sta mettendo il cuore. Ci sta mettendo l'anima. Mi è piaciuto un sacco. Tommaso Panelli. Il rinvio di Piretro. La palla che viene gestita nella fattispecie da Filippo Carli. Che poi va da Gabriele Falchini. Il suggerimento è per Masini. In avanti. Giuseppe Giannini recupera. Per l'Aglianese. Poi vada ad andare. Giannini lo attacca Sanat. Porta a casa. Una rimessa laterale. Carica. La formazione neroverde. In questi ultimi minuti siamo al trentesimo. Quindici minuti. Poi ci sarà solo recupero. Bellazzini. Sbaglia tutto. Piretro c'è. Voleva servire Brega. Adesso Bellazzini. L'importanza di Bellazzini. Andrea Labbate. È stato inserito di fatto nel ruolo più che di trequartista. Nel ruolo di centrocampista centrale. Per dare qualità alla manovra neroverde. È lui che deve gestire i palloni per far girare appunto. E trovare il varco giusto per sfondare nella difesa del Prato. Che in questo momento è molto molto munita. Ancora Colombini che fa qualcosa di straordinario. Recupera su Falchini. La palla adesso è gestita da Giordani. Eccolo qua Giordani che l'allarga. E va a trovare ancora Soldani. Vediamo se la mette Soldani. Si sovrappone ancora Giannini. Ancora Soldani prova l'uno contro uno. Recupera Sanat. Perde una brutta palla. Soldani suggerimento per Wattara. Attenzione perché Carcani è fuori dall'area. Ma è bravissimo. È bravissimo Carcani. Sono stop di coscia degno di un trequartista. Assolutamente. Chapeau. La palla è per Panelli che poi va a cercare Righetti. Attenzione. Righetti chiude bene Mastino. Ancora Righetti che va a recuperare questo pallone. Lo riesce a mettere. Fa una gran cosa. Fa una gran cosa Righetti. L'Aglianese c'è. E adesso tutti dentro. Tutti a saltare. L'Aglianese signori sta giocando una prestazione con il cuore. Perché non ne ha più nemmeno la formazione di Matteo Capecchi. Attenzione cambio. Allora. Minardi per Calamai. Fuori Minardi. Fuori Calamai dentro Minardi. Ruolo per ruolo. Con Minardi che può dare un po' di vivacità. Alla formazione del Prato. Perché obiettivamente in mezzo al campo il Prato non ne sta più prendendo una di palle. Indubbiamente sì. È calata la formazione Bianca Azzurra. La rimessa è per quanto riguarda la formazione dell'Aglianese dentro Minardi. al posto di Calamai. Righetti con la solita. Nell'ultimo quarto d'ora di partita Massimiliano. La palla Piretro. Questa volta Righetti ha sbagliato tutto. E il portiere quindi del Prato potrà andare alla rimessa. Spinosa. Prova a ripartire Spinosa. Lo attacca Righetti. Perde palla Spinosa. Poi la recupera in qualche maniera. Calcio di punizione in favore della formazione bianco-azzurra del Prato. Sta giocando un secondo tempo Righetti davvero strepitoso. Sì, davvero. Sta spingendo e recuperando tanti palloni. Mettendo anche tanti palloni in mezzo. Perde una palla davvero sciocca. Mastino la recupera. La formazione nero-verde con Righetti. Giordani. Eccolo qua. Prova a passare Russo. Poi ancora Russo. Russo non passa. Righetti allarga per Giannini. Se l'allunga un po' Giannini. La mette Giannini dentro. La palla è per Russo. Brega. C'è l'intervento di Tognarelli. Poi Giordani. Attenzione. Attacco vivo. Giordani. Bellazzini devia Tognarelli. Devia Tognarelli. Ancora l'Aglianese che attacca. Si difende il Prato. Con l'orgoglio. Con il cuore. Ma l'Aglianese sta provando a gettare il cuore oltre l'ostacolo. E allora è calcio d'angolo. Ma che partita bella qua Germano Bellucci. Batte Bellazzini dentro. Colpo di testa di Giordani. Palla sul fondo. Ancora un'occasione in precedenza decisivo Tognarelli. nella deviazione che non ha consentito all'Aglianese di essere decisiva per quanto riguarda questa giocata. Allora siamo arrivati al minuto trentatré. Trentatré nel corso del seconda frazione di gioco. 12 minuti e più recupero. Adesso ovviamente il tempo, il cronometro diventa un fattore fondamentale in questa partita. La palla diventa recuperata da Spinosa che poi va a cercare Sanat. Attenzione Sanat. Sanat, il suggerimento è per Falchini. L'attacco è vivo. Un po' lungo. Il suggerimento per Wattara. È in anticipo Righetti che recupera questo pallone. Poi mi sembra che abbia un principio di crampi. No, rimane in campo. Ho visto che ha avuto un movimento un po', diciamo, non lineare. Martineare, però rimane in campo. Samuele Righetti. Wattara non è riuscito a trovare il Guizzo Vincenti. Anche il Prato di Rimessa ci prova in questo finale. Russo di testa. Stacca però Shannamè. La palla è per Soldani che subisce fallo. Il fallo è di Carli. C'è il calcio di punizione per l'Aglianese. Lo sta per battere Bellazzini. Predica calma Capecchi dalla panchina. Vuole che salgano anche le torri su questa punizione. Calcio di punizione che sta per battere per quanto riguarda la formazione neroverde. Tommaso Bellazzini, tutti dentro, tutti a saltare. Il Prato è tutto nella propria metà campo. Tutto nella propria metà campo. Perché è rientrato anche Falchini, ovviamente anche Wattara, tutti a difendere. batte Berlazzini, dentro, verso Colombini che stacca. Calcio di punizione di Colombini che ovviamente si è appoggiato in maniera irregolare su Carli. Giusto il provvedimento disciplinare. Giusto il calcio di punizione. Meno dieci. Meno dieci al termine di questo... di questa partita, di questo derby. Gelli. È il momento di Gelli. Momento di Gelli. Quindi duemila uno in campo. Jacopo Gelli pronto ad entrare per l'Aglianese. Cercare di sfruttare forse la propria fisicità. Sì, sì. Probabile. Stacca Colombini. Poi Viviano Minardi. Poi la giocata di Wattara. Poi Falchini. Sanat. 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 Ma che ha fatto Panelli. Ancora una volta decisivo Panelli. Che ha anticipato Sanat. Davvero un intervento straordinario. Da parte di Panelli. Da parte di Panelli. Che ha fermato Sanat. Clamoroso davvero. Bravissimo Panelli. Sanat poteva fare meglio però l'Abbate. Sì, poteva forse calciare prima. Però davvero ha fatto una chiusura Panelli. che era indietro di tre o quattro metri rispetto al giocatore avversario. Davvero una chiusura strepitosa. La palla adesso. Ed era anche una chiusura difficilissima. Perché qua. Rischiosa, molto rischiosa. Assolutamente. Difensore scivoloso. Difensore pericoloso. In questo caso però è stato davvero molto molto bravo. Propedeutico. Per quanto riguarda il recupero del pallone. Ancora Sanat. Adesso anche l'Aglianese in apnea. Può succedere di tutto. Va Wattara nello spazio. Ecco lo servito. C'è Koda che lo chiude. e mette la palla in fallo laterale. Questo punto può succedere assolutamente di tutto. Può succedere assolutamente di tutto. E siamo arrivati al trentaseiesmo. Trentasettesimo in questo momento Massimiliano. Otto minuti al termine più recupero. Il Prato prende un po' d'ossigeno. Alza il proprio baricentro. Con Spinosa. La palla che poi viene gestita da Masini. Ancora Spinosa. Che poi va da Minardi. Allarga per Mastino. Ancora Minardi. Spinosa. Minardi. Prova a passare Minardi. Non ha soluzioni. Deve ricominciare da dietro. Da Tognarelli che invece la calcia in avanti. Pannelli di testa. La rimanda più lontano che può. Stacca Bellazzini. Il fallo è di Carli su Bellazzini. Il calcio di punizione è in favore dell'Aglianese. Che adesso appare un po' sulle gambe. Dopo aver giocato dieci minuti a tutto gas. Sbaglia tutto questo suggerimento. In avanti. Con la maglia numero tre. Righetti. Non arriva Russo. Allora riparte Masini. È sempre uno a uno. In questo derby. Poi ovviamente andiamo a vedere i risultati degli altri campi. Perché chiaramente a parte Fiorenzola. Che mi sembra abbia blindato il risultato. A questo punto è importante capire cosa può succedere nella lotta per non retrocedere. E nella lotta per quanto riguarda i playoff. Facciamo lo score con l'Abbate. Vai. Forlì di nuovo sotto contro la Marignanese Cattolica. Che torna in vantaggio grazie al gol di docente al settantunesimo. Quindi Forlì Marignanese 2-3. Rimini sotto col Givizzano 0-1. E la Pro Liborna che sta perdendo a Bologna contro il Corticella. Quindi ripetiamo. In questo momento il Prato guadagna un punto su tutte le altre avversarie dei playoff. Buone notizie insomma per il Prato. Pessime ovviamente per l'Aglianese perché il Fiorenzola sta vincendo per 2-0 invece contro il Mezzolara. Attenzione c'è calcio di punizione al minuto 39. batte Bellazzini con il suo sinistro con l'Aglianese. Sono tutti dentro a saltare. È rimasto solo Giannini e Righetti. Allora Bellazzini andrà profondo sul secondo palo a cercare fortuna perché adesso sono tutti a saltare. Bellazzini la battuta. Attenzione la palla che filtra e finisce direttamente sul fondo. Non l'ha toccata nessun angolo. Ha toccato il giocatore del Prato. Sinceramente non avevo visto la deviazione. E allora ci sarà calcio d'angolo. Lo schema è lo stesso. C'è Colombini. C'è anche Coda. La battuta dentro. Mette fuori Wattara. Decisivo in questa circostanza. Poi Giannini calcia male. Alza Campanile. Colpo di testa di Carli. Wattara. Attenzione al Prato che può ripartire con il velocissimo Sanat. Ma c'è un altro velocissimo che è il russo che si sacrifica anche in fase di copertura. Sotto il profilo dell'impegno profuso. Ah, nulla da dire. Alianese e Prato assolutamente hanno dato il centodieci per cento. Sicuramente. La palla è per Giordani che non ci può arrivare. Non la può tenere in campo. Non ce la può fare. Rimessa per il Prato. Cinque minuti al termine. Cinque minuti al termine. Siamo al quarantesimo minuto della ripresa. La rimessa in favore del Prato. Poi Shannamè che calcia in avanti. La palla è per Falchini. Colombini. Ancora Falchini che salta Colombini. Ancora Falchini. Attenzione a Sanat che va nello spazio. Ecco lo servito. Va Sanat che è sicuramente un altro passo di Colombini. Fa il tunnel. Sanat. Ancora Sanat. Area di rigore. Sanat. Sanat. Poi non riesce a concludere. E c'è la chiusura dell'Aglianese. Grande giocata di Ayman Sanat. Ce l'ha questi colpi. Poi Giordani lotta con Masini che recupera il pallone. Ancora Masini. La palla è fuori. Rimesse per l'Aglianese. Adesso squadre stanche. Squadre lunghe. E quindi può succedere assolutamente di tutto in questi ultimi quattro minuti più recupero. La palla è ancora per Giordani che la prova a recuperare. La recupera poi Filippo Carli per il Prato. Poi interviene per un attimo Soldani. Poi è Spinosa che invece va a cercare di trovare Carli. Giannini recupera l'ennesimo pallone ma mette la palla in fallo laterale. Quattro minuti. Dentro anche Jacopo Gelli per questi ultimi quattro minuti più recupero. Credo che vada a fare l'attaccante. Guarda me lo sento. Sì, penso anch'io. Ti concordo con la tua previsione. Perché a questo punto l'Aglianese si gioca il tutto per tutto con le palle lunghe. E quindi mette un altro giocatore alto, bravo, nelle palle alte. Sera Giannini, credo. Eh sì, eh. Quindi difesa a tre. Immagino. Vediamo, dai, non facciamo troppi anticipazioni. Entra il quattordici Gelli. Vediamo chi esce. Giannini, il due. Quindi Giannini per Gelli. Quindi difesa a tre. Con Gelli. Vediamo dove si va a posizionare. No, va davanti, vedi? Sì, sì. Va a fare l'attaccante aggiunto. Sì, si gioca anche questa carta. Non c'è più nulla da difendere. Assolutamente. Il pareggio, la sconfitta, l'Aglianese cambia poco. Assolutamente. Il pareggio è come una sconfitta. Tanto raddoppio del Ghibizzano a Rimini. Eh, allora, il play-off e il Prato, invece, questo punto diventa davvero importante. Gelli. Con il gol dell'ex Aglianese Nieri. Tra l'altro. Mentre il Ghibizzano facciamo i complimenti all'allenatore Simone Verturi, che ha fatto davvero un mezzo capolavoro con il suo Ghibizzano. Spinosa. Adesso il Prato ci prova. Con la giocata di Mastino, che la può mettere, che mette fuori coda, recupera Gelli. Il nuovo entrato, che va da brega. Ancora Brega. Avanza Brega. Uno con Tullo Contognarelli. Prova a passare Brega. Non c'è fallo. Non c'è fallo a giudizio del direttore di gara. Sarrabbia. Sarrabbia Brega. Carli, che sta giocando una partita davvero importante in fase di interdizione. Il fallo è di Bellazzini. Il calcio di punizione è per il Prato. Ci sono crampi, mi sembra. Per Panelli. Per Panelli. Sì, che è stanchissimo. 43 sul cronometro. Due più recupero. Due più recupero, sempre uno a uno, con il Fiorenzola che vince, e quindi il Fiorenzola si porterebbe. In classifica laglianese, se questo fosse il risultato finale. Va a 72, il laglianese salirebbe a 71. Mentre il Rimini perde, se non vado errato, e quindi rimane a 51. Il Forlì sta perdendo. Rimane a 48. Il Pro Livorno sta perdendo, rimane a 48. Quindi il Prato a 49. Se finisce così, si è quinto, ed è padrone del suo destino, poi nell'ultima gara in casa, con il Seravezza. Mentre l'aglianese non sarebbe padrone del suo destino, perché dovrebbe andare a vincere a Livorno, con la Pro Livorno, e sperare che il Fiorenzola non vinca a Bologna con il Sasso Marconi. Al momento è a pari punti con la Marignanese al penultimo posto in classifica, quindi si giocherà le Residue Speranze di Salvezza. Mamma mia, che un'ultima giornata semplicemente straordinaria. Però qui c'è ancora da giocare. Attenzione, Carli prova la battuta. Calcia direttamente sul fondo, ma c'è deviazione calcio d'angolo. Calcio d'angolo, calcio d'angolo per il Prato al minuto 44. Quindi a questo punto soltanto il recupero. c'è un altro cambio per l'Aglianese. Casanova. Casanova. Casanova per Panelli appena, dopo questo calcio d'angolo probabilmente, perché Panelli per Trampi non ce la fa. E poi facciamo la solita scommessa sul recupero, la bate, mi gioco cinque minuti. Sì, pensa anch'io. La battuta del calcio d'angolo, la palla dentro, il rete del Prato. Il Prato segna, Falchini, Falchini, porta avanti il Prato al minuto 44 sugli sviluppi di un calcio d'angolo. il Prato in vantaggio con Gabriele Falchini e quindi la formazione bianco-azzurra riesce a portarsi avanti, a espugnare quindi per il momento il campo dell'Aglianese e chiaramente a mettere una grossa ipoteca per un posto per quanto riguarda i play-off. Il gol di Gabriele Falchini di testa sugli sviluppi del calcio d'angolo. Il Prato è avanti per due a uno con la rete di Falchini. Adesso si fa davvero dura. Pietra tombale. Pietra tombale sul campionato. Questo gol di Falchini che di fatto consegna la Serie C al Fiorenzuola. Il gol di Falchini quindi il Prato si aggrappa alla zona play-off per quanto riguarda invece la formazione dell'Aglianese è davvero una pietra tombale su questo campionato perché il Fiorenzuola si porta a più tre a meno uno dal termine e allora diciamo che la situazione diventa davvero quasi improponibile per quanto riguarda la formazione della compagine nero-verde si più due non più tre rispetto al Fiorenzuola. Adesso Gelli di testa la palla è giocata da Soldani ancora Soldani che la mette dentro Gelli la palla è per Giordani Piretro salva tutto attacco ancora vivo Piretro sta succedendo di tutto qua al Germano Bellucci con Giordani che non ha trovato la forza di spingerla dentro al quarantaseiesmo Giordani poteva riaprirla non ho visto il recupero però la bate e quindi ancora due a uno per l'Aglianese con Giordani che poteva riaprirla da un metro veramente Piretro è stato bravo a sventare la minaccia il colpo di testa da parte di Colombini Certo ma segnalano che essere primi tutto l'anno a essere scavalcati alla vigilia dell'ultima di campionato fa davvero davvero male per l'Aglianese assolutamente la palla è per Falchini con il Prato che di rimessa continua a gestire il pallone quindi reso pan per focaccia con l'Aglianese che aveva vinto la gara di andata e il Prato che adesso con Sanat potrebbe addirittura triplicare bravo Carcani in uscita a sventare ma l'Aglianese non c'è più l'Abbate eh no il gol del 2-1 ripetiamo ha messo una pietra tombale sulla partita e sul campionato perché adesso il Fiorenzola ha davvero in mano la vittoria del campionato stesso e quindi la promozione in Serie C eh sì Fiorenzola che dovrà comunque andare a vincere sul campo del Sasso Marconi per portare a casa la cima sicuramente è un grandissimo risultato l'Aglianese quest'oggi non ha trovato la forza di segnare la seconda rete sì forse non ha trovato la lucidità nel secondo tempo perché obiettivamente ha giocato un secondo tempo sempre in spinta a recuperare tanti palloni a buttare tanti palloni ma è mancata la lucidità negli ultimi sedici venti metri per trovare il gol del vantaggio che in un certo momento sembrava anche per così dire maturo per la formazione di Capecchi perché ha davvero profuso uno sforzo notevolissimo la formazione nero verde nel corso del secondo tempo il rinvio da parte di Carcani la palla per Shannamè attenzione Shannamè Piretro Piretro in uscita anticipa Russo adesso siamo al quarantottesmo non ho visto il recupero perché c'è stato il gol del Prato non so se sono tre quattro cinque andiamo avanti a braccio a questo punto ne sono già andati tre e mezzo comunque il colpo di testa da parte di Righetti che non ci arriva il fallo di Wattara tanto attenzione c'è un'espulsione dalla panchina no ci sono c'è un richiamo c'è un richiamo verbale per un componente della panchina dell'Aglianese calcio di punizione che sta per battere Carcani la battuta di Carcani palla lì mette dell'aria la mette fuori Carli poi recupera ancora Righetti che prova ad andare fino in fondo palla in fallo laterale di messa per il Prato adesso si aspetta soltanto il fischio finale con il Prato che grazie al gol di Falchini riesce ad espugnare il Germano Bellucci di Agliana quindi il Prato che si reaggrappa ai playoff e l'Aglianese che veramente si complica maledettamente la vita per quanto riguarda la promozione Wattara attenzione Wattara limite dell'aria ancora Wattara dentro per Falchini Falchini palla fuori la poteva veramente sigillare Falchini mi sa che adesso è finita mi sa che adesso è finita perché siamo quasi al cinquantesmo e quindi l'Aglianese ci prova ma siamo arrivati veramente ai titoli di coda di questa partita che rilancia il Prato adesso poi con l'Abbate facciamo ovviamente il conto dei risultati che arrivano dagli altri campi e cerchiamo di capire quello che sta succedendo a questo punto più che altro per quanto riguarda la zona playoff e la zona detrocessione il pareggio del Forlì quindi Forlì marignanese 3 a 3 e soprattutto è arrivato anche il vantaggio del Sassomarconi a San Mauro Pascoli questo vuol dire che domenica prossima alla San Maurese scusate il Sassomarconi potrebbe anche non servire la partita perché se fossero questi risultati sarebbe già salvo matematico il Sassomarconi sulla marignanese e allora insomma risultati che in questo finale hanno praticamente decriptato quello che è successo hanno decriptato tutte le varie alchimie di questo campionato intanto c'è la munizione per Sanat qui siamo al 51esmo evidentemente ha dato un maxirecupero il direttore di gara è 2 a 1 per il Prato che quindi si appresta ad espugnare il comunale di Agliana a riportarsi in piena zona playoff e praticamente a far uscire l'Aglianese dal proprio sogno vale a dire il salto in C2 la battuta da parte di Carcani e finisce qua quindi finisce qua con il Prato che vince ad Agliana per 2 a 1 grazie alle reti realizzate dal nel primo tempo da Tavano e da Falchini nella ripresa il gol per quanto riguarda la formazione dell'Aglianese realizzato da Brega al nono finisce qua c'è qualche polemica in campo tra le due squadre e vedete c'è un po' di tensione però il Prato espugna il Germano Bellucci di Agliana il telegramma conclusivo del nostro Adela Abate partita vera partita combattuta derby davvero di grandi livello fra le due squadre e nel gol di Falchini al novantesimo ha di fatto consegnato il campionato alla Fiorenzola aglianese generosa nella ripresa a cercare il gol del 2 a 1 ma poco lucida e quindi finisce qua con il Prato che espugna il Germano Bellucci di Agliana con le polemiche che si sprecano qua in campo tra le due fazioni e il finale davvero molto molto concitato con le due squadre che si affrontano qua sul rettangolo verde c'era ovviamente da metterlo in conto l'aglianese ha di fatto mandato all'Ortiche quello che aveva costruito per tutta la stagione il Prato a guanta e playoff ma questo è il calcio e allora finiamo qua con il risultato finale con il Prato che espugna il campo e l'aglianese e si impone addirittura per 2 a 1 grazie per l'ascolto e gli appuntamenti sono ai prossimi match del campionato di Serie D buon proseguimento di serata grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto